Vado là, lo prendo per il bavoro, questo negro, l'ho preso per il bavoro. Cioè una ragazza è venuta da lei, le ha detto, guardi che quello lì... No, mi ha messo le mani addosso. Lo prendo per il bavoro e le dico, ma cosa fai? E lui mi fa, lei non sa cosa mi ha detto. C'è il tipo, ho detto, sono il sindaco. Mi fa, non mi interessa che lei è il sindaco.